Radio dare una voce Le storie di chi ha scelto di cambiare vita Ciao a tutti, da Andrea e da Radio dare una voce Oggi andiamo a Raveo, un paesino in provincia di Udine per incontrare quello che è stato uno dei ragazzi che ha realizzato una delle storie più interessanti di cambiamento negli ultimi dieci anni Molti lo conoscono come Pecora Nera esattamente come recita quel suo libro che io costruisco gelosamente nella mia libreria come altri che ho già citato ed è una storia di cambiamento importante perché racconta appunto come un ragazzo poco più che ventenne decide di lasciare un lavoro tradizionale per dedicarsi al mondo dell'agricoltura e diventare un contadino del nostro secolo quindi accogliamolo e Davis Bonanni Eccoci, ciao, buona serata, ciao Ciao Davis, tutto bene? Abbastanza, grazie Bene, bene Allora, come abbiamo anticipato nella premessa la tua è una storia già diciamo abbastanza nota perché ormai sono passati un po' di anni dalla tua scelta di cambiare vita e ho citato in parte anche il tuo libro e alcune cose molto belle che hai fatto ma prima ancora di arrivare a quella parte della storia che molti conoscono e che comunque fa parte ormai dell'immaginario di tutti quelli che hanno scelto di cambiare vita in particolare avvicinandosi al mondo agricolo al mondo dell'agricoltura vorrei ripercorrere con te se ti va proprio le tue origini e capire come queste origini in qualche modo hanno poi influenzato ciò che è successo dopo quindi partire ad esempio da dove sei nato da come sei cresciuto per arrivare a che lavoro facevi prima della tua scelta insomma la prima parte della tua vita prima del cambiamento Sì, una particolarità della mia esperienza è che io sono nato e cresciuto in montagna quindi tra virgolette sono tornato ad essere abitante del mio territorio non arrivandoci da fuori non arrivando dalla città come diciamo normalmente accade in queste storie di downshifting di crescita felice eccetera eccetera io abito in Carnia che è una diciamo può essere definito l'Alto Friuli la montagna friulana ed è una terra che al contrario di altre parti delle Alpi è in via di una crisi demografica profonda da almeno 40-50 anni dove il turismo fa fatica dove la gente se ne va e dove avanza il bosco sostanzialmente quindi io da ragazzino vivevo vivevo bene nel mio territorio però da quando ho cominciato poi a studiare informatica quindi a uscire per gli studi la prospettiva era quella o di concepire il paese come dormitorio quindi un posto dove si ha la casa e in cui si ritorna alle 5-6 del pomeriggio e il sabato e la domenica oppure proprio di lasciarlo perché diciamo le prospettive per un tecnico informatico in Carnia non sono di certo di certo role io ho fatto il mio percorso di studi e poi per 5 anni ho trovato lavoro appunto come tecnico in un ufficio quindi c'è sicuramente questa fortuna di non essermi dovuto mai spostare per fare la mia scelta però c'è stata anche questa capacità di visione perché molto spesso è più facile vedere il negativo della nostra società se abitiamo in un posto affollato inquinato appunto dove si vedono dove si vedono le problematiche ambientali e quindi si magari inizialmente la spinta iniziale potrebbe essere di anche idealizzare un momento di rottura che per me effettivamente non c'è mai stato certo certo quindi diciamo che è stato un filo conduttore da quando eri bambino fino ad oggi alcuni parametri sono rimasti fissi in questa esperienza sì è cambiata la chiave di lettura io a 17 18 anni diciamo nel magma adolescenziale dei vari ideali anarco narcoidi comunisti ambientalisti in quella confusione in quell'energia che si ha a quell'età ho incrociato per caso un articolo che parlava su Focus quindi molto molto strano trovare un articolo su Focus che parlava di autosufficienza alimentare ed energetica e di ritorno tra virgolette ad abitare le terre rurali che in Italia abbondano come può essere il nostro meridione tutto l'Appennino parte delle Alpi ritornare ad abitare in una chiave antica sicuramente ma anche moderna tecnologica con quei termini che nel 2002 quando io ho cominciato a interessarmi di questa cosa mancavano ancora perché non non si parlava di decrescita felice non si parlava di sostenibilità non c'era stata non c'era stato l'Expo sull'alimentazione non c'era stato il fenomeno Greta eccetera eccetera e quindi io in quell'articolo lì mi è scattato come un un click in cui ho visto il posto dove abitavo sotto il suo vero potenziale cioè come un posto come una terra vergine una terra incognita da esplorare per realizzare un ideale che in quel momento però diciamo era prettamente politico se vogliamo usare questo termine assolutamente e se non ricordo male circa a 18 anni hai comunque fatto un'esperienza in un ecovillaggio per cominciare a prendere quelle che erano le misure di questa vita differente del modo in cui si poteva fare sì perché questo articolo riportava appunto questo termine ecovillaggi che io naturalmente non avevo mai sentito e quindi sono andato sia in Toscana alla comune di Bagnaia e poi ho fatto anche un'esperienza in Spagna sui Pirenei in un ecovillaggio di stampo anarchico e diciamo l'impressione che ne ho tratto è stato che ho incontrato persone molto ma molto concrete molto se vogliamo anche anche realiste sincere nell'introdurmi alla loro alla loro esperienza nel parlarmi dei pro e dei contro che avevano incontrato e quindi da queste esperienze positive all'inizio anelavo diciamo di aderire a qualche comune perché sai il fermento diciamo nelle regioni rosse Toscana Emilia sull'Appennino è sicuramente molto più forte e poi invece piano piano sempre con questa chiave di lettura che avevo cominciato a sviluppare mi sono guardato attorno e mi sono detto che se il cambiamento doveva essere a livello globale potevo realizzarlo anche io nel posto dove ero nato che sostanzialmente andando a rispolverare sotto il tappeto una civiltà contadina che era sopita da una cinquantina d'anni insomma che era la generazione dei miei nonni la mia famiglia rappresenta bene questo questo passaggio perché mia nonna appunto viveva delle sue due vacche viveva appunto di questa agricoltura di sussistenza era nata nel 22 e ha mandato a scuola mia madre vendendo i terreni di famiglia facendola studiare facendola laureare e poi io ero il terzo anello del cambiamento che ero arrivato diciamo a interessarmi dell'informatica quindi nella terza rivoluzione industriale quindi ho riavvolto un nastro un nastro familiare ma che poi è una storia antropologica dell'Italia intera certo vero vero ma la cosa che però mi ha colpito molto sentendo anche altre testimonianze che hai dato in questi anni è il fatto che comunque correggimi se sbaglio dopo queste esperienze che tu hai fatto no? poco meno che ventenne tu poi hai intrapreso questa carriera informatica che come dicevi poc'anzi è durata cinque anni però già nel frattempo mentre facevi il lavoro di informatico se non ricordo male già ti dedicavi all'agricoltura nei tempi che rimanevano oltre il lavoro com'è stato questo passaggio? questa scelta di lasciare il lavoro ovviamente non è stata immediata no? ci sei arrivato piano piano e allora in questi cinque anni dove facevi entrambe le cose qual era il tuo stato d'animo e quali erano le cose su cui stavi riflettendo? Sicuramente ero molto sono avuto la fortuna diciamo di intripparmi se vogliamo interessarmi di questi argomenti in un momento in cui avevo strada libera nel senso che non avevo vincoli affettivi economici non avevo figli non avevo mutui eccetera quindi questa è stata una fortuna la decisione comunque di valorizzare un titolo di studio è il fatto diciamo era un po' per rispondere anche alla religione del lavoro che in Friuli tra Friuli Veneto insomma nel Triveneto dilaga quindi sicuramente di dover dimostrare il mio valore anche alle aspettative familiari quindi di tranquillizzare un po' i miei genitori di fare di mettere da parte dei soldi di scoprire un'alternativa però scoprire prima qual era lo status quo altrimenti avrei fatto la figura diciamo del figlio di papà che non ha mai lavorato e che vuole andare contro un sistema che in realtà non ha neanche mai assaggiato ho trovato uno probabilmente uno degli ultimi contratti a tempo indeterminato della storia italiana e ci sono rimasto per cinque anni nel frattempo la sera o la mattina prima di andare in ufficio o il sabato della domenica verificavo questo che all'inizio era solo un ideale molto grezzo di ritornare a un livello di autarchia prima di tutto alimentare per dare prima di tutto la mia testimonianza politica quindi svincolarmi dall'essere consumatore diventare produttore di ciò che mangiavo come segno di protesto certo io ho 18 anni per dirti odiavo la verdura cioè quando ho mangiato i primi pomodori ho rischiato di vomitare quindi partivo partivo da 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 basi lontanissime insomma per dirti quanto era utopia il fatto che io mi mettesse a coltivare il mio primo orto e fosse un ragazzo che non aveva mai mangiato un pomodoro quando questi pomodori sono cresciuti purtroppo il realismo mi ha condotto a dovermi adattare pian pianino a un nuovo stile alimentare ho cominciato un viaggio alimentare e da lì ho verificato quello che era una passione viscerale in realtà per il lavoro il lavoro agricolo il lavoro con la terra il lavoro nell'ambiente all'aria aperta che ha un po' sostituito pian pianino diciamo tutta quella quella costruzione insomma utopica iniziale per diventare cosa concreta sentire sentire proprio con le mani quello che era la mia la mia strada e ho lasciato il lavoro in grande tranquillità cioè non ho mai ho sempre voluto che la mia scelta non fosse una scelta di di rottura di andarmene via incattivito tra virgolette dal sistema ma con grande semerinità a un certo punto ho deciso ho sempre sperato insomma che la mia azienda in qualche in qualche modo andasse perché non andavano tanto bene le cose dal punto di vista economico in azienda io speravo bah magari si va in cassa integrazione in disoccupazione che ne so avrò la possibilità di fare quello che voglio a tempo pieno finché mi son detto in realtà no devo scegliere devo prendermi io l'honor della scelta e quindi un bel giorno ho comunicato le dimissioni insomma al mio capo ringraziandolo tanto ma dicendo che la mia strada era era un'altra chiaro infatti la vera come dire la vera forza è stata quella la forza di comunque di prendere una decisione che poi è per molti sempre il freno perché quando decidi tagli fuori qualcos'altro inevitabilmente tu spesso e volentieri quando parlavi di questo periodo dicevi sempre che io ne parlo diciamo un po' da fan di questa storia perché l'ho seguita per anni e ti ringrazio perché in qualche modo hai ispirato anche alcune delle cose che poi ho fatto anch'io e dicevi parlavi sempre della tua scelta quella del dell'agricoltura come un qualcosa che ti sapeva di libertà e ovviamente questo era assolutamente in contrasto con quello che vivevi al lavoro allora ti volevo chiedere così brevemente quali erano i pensieri ricorrenti rispetto al tuo lavoro abbiamo capito che l'hai lasciato hai parlato di messaggio politico a livello individuale ma questo è importante cosa c'era di questa società che rinnegavi totalmente e che a un certo punto volevi smettere di farne parte di alimentarlo oltre il consumismo in generale quali erano i meccanismi che proprio non ti andavano più a genio il senso di libertà allora chiarisco che io oggi lavoro molto ma molte ore se misuriamo le ore molto ma molto di più di quando lavoravo in ufficio quindi la libertà non è per me legata all'ozio certo io lavoro perché faccio un lavoro che ho scelto ho la possibilità di farlo bene è un lavoro che per me ha un senso e la libertà è che io in ogni momento posso anche decidere di non farlo quando ci sono queste condizioni qua io penso che la maggior parte delle persone potrebbe lavorare con lavorare bene insomma quando sei legato invece appunto a a orari a una concezione del lavoro che viene misurata tramite le ore che passi in ufficio e ti senti quindi quindi vincolato anche se il lavoro non mi dispiaceva in fin dei conti senti 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 il peso il peso del vincolo quindi sicuramente in questa società non non apprezzavo appunto come il il principale il capo il direttore eccetera percepisce i suoi lavoratori come dei dei bambini che devono essere tra virgolette sorvegliati e non si va invece verso un un lavoro che è più per mansioni per obiettivi per traguardi quindi questo mi stava assolutamente assolutamente stretto più diciamo nel mio nel caso della mia azienda vedevo certe certe dinamiche insomma un po' particolari di finanziamenti pubblici finanziamenti privati bancari dinamiche insomma che non per inciso l'azienda è fallita un 5 anni dopo che ho lasciato io con guardia di finanza diciamo che veniva a fare dei controlli sulla contabilità quindi io vedevo delle cose che non mi stavano bene e per me prendere uno stipendio per fare un lavoro appunto che di cui vedevo molti molti lati lati oscuri non era più così gratificante vorrei dire una cosa rispetto a quello che dicevi accennavi prima sulla difficoltà di scegliere di mollare una di mollare diciamo una situazione per fare un percorso alternativo io ho conosciuto veramente decine e decine di persone che sono passati di qua negli anni venendo a fare woofing e le persone più bloccate sono paradossalmente quelle che hanno costruito una condizione più di comfort cioè quelle che hanno un lavoro più sicuro più ben pagato più vicino a casa che diciamo per cui hanno studiato e che lo apprezzano abbastanza cioè paradossalmente chi ha le condizioni più favorevoli economicamente se vogliamo di prospettiva di vita per costruire una scelta alternativa si ritrova più bloccato per quello che dovrebbe rompere con una situazione che tra virgolette è di comodo mentre chi invece ha sempre vissuto lavori precari condizioni precarie è tra virgolette molto più addestrato alla mobilità anche appunto a fare percorsi alternativi certo certo assolutamente d'accordo come si suol dire spesso si dice chi chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane perché poi fondamentalmente questo è però sì questa è una dinamica molto molto frequente assolutamente tornando diciamo un pochino a quella che è la tua storia tu a un certo punto hai intrapreso nel terreno dei tuoi genitori se non ricordo male ovviamente se dico delle cose non corrette correggi e intraprendi questa storia diciamo questa iniziativa di diventare un contadino full time per usare un termine diciamo del nostro mondo lavorativo occidentale e in alcuni frangenti anche anche nel libro ma anche in alcune interviste fai riferimento a come lo accennavi anche prima nella tua provincia la prima cosa che ti chiedono dopo il nome e cosa fai per lavoro e quindi l'identificarsi con un ruolo sociale e proprio perché forse probabilmente ormai in quel contesto il contadino viene visto come un lavoro che o non è un lavoro cioè una cosa che fai così per te ma non viene vista più come un qualcosa di importante mentre tu hai fatto capire nel tempo molto spesso che il contadino è assolutamente un lavoro intellettuale sotto certi punti di vista per tutta la quantità di cose che bisogna sapere e poi perché come tutti i lavori hai impiegato del tempo per affinarti non è che il primo giorno eri bravo quanto oggi ti va di raccontarci un po' questo spaccato tra quello che gli altri pensavano e quello che poi effettivamente era realtà sì una delle più grandi appunto pressioni sociali io penso che sia valido almeno per tutto il nord d'Italia appunto quando incontri una persona nuova che conosci una delle prime domande che ti vengono fatte è che lavoro fai come se parte della persona parte diciamo dell'identità anzi gran parte dell'identità si risolvesse appunto nel ruolo lavorativo certo io quando ho lasciato il lavoro non l'ho fatto per diventare un imprenditore agricolo ma prima di tutto e inizialmente per fare un percorso appunto per raggiungere l'autosufficienza alimentare questo vuol dire che i primi anni io non avevo un lavoro mio un lavoro tra virgolette ufficiale anche se lavoravo dieci ore al giorno non era un lavoro non avevo aperto un'impresa agricola non avevo chiesto i contributi di primo insediamento non andavo a fare il mercato non versavo i contributi dell'Inse eccetera 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 e qui negli occhi dei miei genitori prima di tutto dei compaesani perché io abito in un paese che ha 400 anni e quindi anche lì c'è una pressione sociale non indifferente io ero uno che aveva mollato il lavoro per fare non si sa bene cosa perché anche spiegare quello che avevo in mente a una persona che non ha un background culturale che non è non si è mai interessata a questi temi è difficile se non impossibile soprattutto soprattutto 10-12 anni fa quando appunto non c'era non c'era neanche il lessico e questo è stato un grande peso che io mi sono portato dietro per i primi anni forse mi porto dietro anche tuttora a livello inconscio che poi pian pianino insomma si è si è andato colmando perché agli occhi di chi mi stava vicino ho dimostrato concretezza perché non ho mai mollato non ho mai mollato un giorno quello che avevo intrapreso certo certo tra l'altro quando decidi di fare questo cambiamento la cosa molto interessante anche carina fu il fatto che questo terreno aveva diciamo una pertinenza aveva una una piccola casetta in legno credo da come racconti in alcuni momenti che era stata realizzata in un'occasione di un terremoto e e che diventa un po' anche non solo diciamo l'elemento per da cui staccarsi se vuoi non definitivamente però comunque staccarsi anche da casa dai propri genitori andare a vivere da solo quindi in qualche modo tu in quel terreno sei andato a costruire sia la tua attività sempre poi migliorandola però anche il tuo posto dove stare ti va di raccontarci un po' come era questa casa che mi sa che non esiste più se non ricordo male nella modalità in cui era all'epoca sì la casa era una casetta di legno era un bungalow del post terremoto del 76 del terremoto dei Friuli appunto di proprietà abusiva perché abusiva era era un relitto un relitto edile dell'emergenza del terremoto rimasta lì quindi sostanzialmente non era catassata ma era su un terreno di proprietà dei miei genitori e pochi mesi dopo essermi licenziato mi capitò in mano appunto il libro di Toro Walden in cui insomma insomma leggetevelo che è un libro bellissimo di questo filosofo americano dell'ottocento e io ricalcai diciamo il suo esperimento e lui nel suo nel suo libro racconta l'esperienza nella quale si trasferisce lontano dalla società a vivere sulle spone di un lago costruisce la sua capanna beh io la capanna la casa ce l'avevo già pronta e quindi andai per vivere per sperimentare diciamo la massima frugalità essenzialità se vogliamo il massimo estremizzare al limite la mia scelta e quindi completare un percorso di autosufficienza alimentare ed energetica che avevo costruito appunto nei primi anni e vivere vivere questa esperienza per dire le cose pittoresche ci sono state le mattine invernali in cui io mi svegliavo e l'acqua nella bottiglietta era gelata quindi la temperatura in casa era andata a zero perché appunto era i topi avevano divorato tutto quel poco di polistirolo isolante isolante che c'era quindi la casa non era coibentata quindi è stata veramente un'esperienza seppur nelle vicinanze del paese della civiltà quindi non into the wild però è stata fisicamente fisicamente estrema e formativa era la ricerca anche dell'identità del mio progetto racchiudendo tutto ciò che che ero in un micropodere che comprendeva l'abitazione la serra che avevo costruito anni prima e la campagna che coltivavo certo sempre poi diciamo nel in questa se vogliamo in questo manifesto sociale politico individuale di questa scelta tu a un certo punto scegli di fare pure una cosa particolare che ad esempio è quella di toglierti la macchina e prendere la bicicletta perché è nata anche questa esigenza se possiamo riportarla sempre a un concetto di libertà di cui parlavamo prima sì avevo scoperto che l'automobile diciamo come ammortamento generale non solo come consumo di carburante praticamente equivale a due tre stipendi l'anno quindi ci sono dei costi ci sono dei costi nascosti in questo mito degli anni 50 60 di un automobile a testa è stato un po' il simbolo del boom economico come appunto percorso di autoproduzione avevo concepito che anche spostarsi a piedi o più velocemente in bicicletta più efficacemente in bicicletta era autoprodurre lo spostamento nello spazio di cui si aveva bisogno quindi era alla stregua di coltivarsi il grano piuttosto che le patate piuttosto che tagliarsi la legna pedalando arrivavo a una certa forma di autarchia del movimento e di rifiuto insomma di questa mobilità vacqua insomma che viene imposta dalla nostra società oggi lo vediamo con con questa emergenza del virus abbiamo messo tutti tutti gli aerei a terra e il logico matematico di Freddy diceva insomma ragionava che noi nella nostra società abbiamo mitizzato il movimento ma il movimento molte volte fino a se stesso cioè molte volte si va in dei luoghi si fanno dei viaggi veramente rapidi veloci senza esservi preparati molte volte senza portarsi a casa niente e si macinano chilometri a vuoto la nostra società ha mitizzato molto il famoso caffè a Londra con Ryanair perché c'è o c'era non ci sarà più il volo a un euro è la mitizzazione di uno spostamento di 3.000 4.000 chilometri totalmente inutile da cui non ne ricaviamo nulla se non bere un caffè e raccontarlo agli amici adesso questo risaliva magari a qualche anno fa ma c'era questo mito e io rifiutavo ristrutturando i miei orizzonti geografici perché ero passato a fare una vita molto stanziale e rifiutavo appunto questo muoversi infinitamente e molte volte anche senza un vero scopo insomma certo e quindi una delle cose anche molto belle che poi succedono in questa esperienza che cominci a fare in quegli anni è che inevitabilmente benché se ne dica lavorare un orto di quelle dimensioni significa a volte stare anche 6-7 ore 9 ore diciamo con la schiena china sul terreno e inevitabilmente si abbraccia il concetto della lentezza di cui stavi parlando e soprattutto di avere il tempo per il silenzio e per parlare con se stessi qual è stata la tua esperienza con la solitudine con il stare tanto tempo da solo con te e quindi avere tanto tempo per ascoltare i tuoi pensieri per ascoltare ciò che avevi da dirti mentre facevi queste attività ovviamente ma sicuramente sì non ero più esposto lavorando da solo sostanzialmente ero effettivamente vivevo molto tempo con me stesso e quindi e quindi ho avuto molto tempo per riflettere fuori diciamo dalla pressione della vita quotidiana che facevo prima insomma dagli stimoli dalle problematiche dalla routine eccetera e soprattutto avevo bisogno avevo bisogno di elaborare molti concetti perché come dicevamo prima anche involontariamente la società tramite i suoi esponenti quindi genitori amici vicini di casa paesani esercitava anche appunto involontariamente una grossa pressione una grossa pressione emotiva mentale per farmi ritornare sui miei passi quindi avevo bisogno di questa solitudine e di riuscire a elaborare interiormente anche un mio solido manifesto di vita per resistere a quell'onda di ritorno perché anche conoscendo come ti dicevo prima decine di persone in cammino verso scelte di vita alternative molto spesso pensiamo che quando abbiamo fatto la scelta la rottura anche drastica il più sia fatto invece io rivendico che la difficoltà più grossa sia riuscire a durare negli anni cioè ha più valore non ha tanto valore il fatto che mi sia licenziato ma che io sia qui con mille compromessi correzioni retromarce cambi di paradigma ho cambiato idea opinione su tantissime cose in questi anni però sono qui a confermare diciamo la mia scelta no? e c'era bisogno di questo silenzio insomma per per costruirsi un po' le fondamenta certo certo a un certo punto poi è successo qualcosa che ti ha portato anche a condividere questa storia perché io prima ho citato questo bellissimo libro che consiglio a tutti perché tra l'altro come tutti ti citi proprio nel libro a un certo punto dici io sono una persona che dal punto di vista esteriore sembra che non lascio trapellare le mie emozioni però poi leggendoti si scopre un mondo dietro la tua persona proprio come uomo e quindi è un libro molto profondo che tocca tanti temi e li tocca in maniera secondo me non solo esaustiva ma anche importante e come è nata l'idea di scrivere un libro in fondo stavi facendo il contadino scrivere il libro è un'altra cosa poi ne hai scritto anche un altro magari ci arriviamo però fondamentalmente che ti è scattato nella testa come bisogno di comunicare a molte persone che esisteva questa storia possiamo citare Turo che dice che chi parte da solo può partire subito chi vuole partire in compagnia deve aspettare gli altri quindi la scelta diciamo individuale solitaria all'inizio è stato perché io fremevo dalla voglia di intraprendere questo percorso il libro è arrivato diciamo veramente in maniera casuale la catena di eventi è stata questa io da qualche anno aggiornavo un blog con un piccolo seguito era semplicemente un resoconto di qualche pensiero di qualche evento della vita quotidiana qualche ragionamento così insomma per per riempire serate invernali e dare un po' sfogo magari a un po' di creatività scrittoria la catena è stata che MTV la televisione quella musicale stava facendo un piccolo documentario sui giovani e le scelte alternative dei giovani e nell'ambito di giovani in natura hanno trovato me tramite il blog quindi MTV ha dato un primo facendo questo servizio ha dato un primo marchio di interesse affidabilità eccetera da lì qualcuno della casa editrice deve averlo visto e mi hanno chiamato e si sono proposti loro perché sostanzialmente fanno il loro lavoro e quello di intercettare un trend che all'epoca era molto fresco appunto di scrivere un libro a seguito di un blog di scriverlo sul ritorno alla terra che era un argomento io se avessi scritto Pecora Nera oggi sarei già stato superato tra virgolette dagli eventi nel 2000 insomma non so quando è uscito dieci anni fa se non mi ricordo neanche più era qualcosa sull'onda certo però io non avevo assolutamente la minima idea di scrivere un libro tenevo il blog giusto per lanciare un amo nel mare del web e trovare qualche qualche anima pia che si rifletteva testere i miei ragionamenti eppure però poi è diventato un piccolo caso editoriale importante perché comunque ha venduto bene e il libro è anche facilmente trovabile quindi comunque alla fine è stata una scelta giusta sì è venuta così molto spontaneamente infatti anche il libro io l'ho scritto ma non rendendomi assolutamente conto che poi ci sarebbero stati dei lettori quindi anche se vogliamo molto sincero è molto fresco anche per questa per questa ingenuità diciamo iniziale iniziale che che ho avuto io è stata una buona cosa insomma perché ha procurato un sacco di di contatti ho conosciuto molte persone e molti che l'hanno letto mi hanno detto che gli è stato utile utile in qualche modo come no certo certo confermo poi nel 2015 hai scritto anche un altro libro correggimi se sbaglio il titolo è Il Buon Selvaggio sì un'opera successiva di qualche anno no quindi sicuramente anche un punto diverso del tuo percorso in cosa questo libro forse rappresenta un momento diverso di vita il primo libro Pecora Nera appunto era il racconto il racconto di un'esperienza formativa narrato senza fronzoli forse senza senza tanti schemi mentali tre anni dopo Il Buon Selvaggio diciamo era più un un breviario agroecologico di di riassunto del mio manifesto filosofico insomma di quello che avevo messo assieme in in una decina d'anni di di agricoltura agricoltura fatta nel rispetto dell'ambiente della terra conoscendo un sacco di persone di un circuito che si fanno che si fa le domande su come possiamo vivere in questo pianeta senza scassinarlo e quindi è un libro molto più complesso un po' più lungo molto più ragionato infatti dico sorridendo ha venuto molto di me per questo motivo qua insomma non è un libro così semplice certo certo prima hai detto una cosa molto bella secondo me perché hai a un certo punto spiegato che hai confermato negli anni la tua scelta che ovviamente è rimasta la stessa ma esattamente nella filosofia del cambiamento dove quel cambiamento non deve diventare l'ennesima catena l'ennesima schiavitù no? perché se no sei solo passato da una schiavitù all'altra sei riuscito ad adrizzare il tiro su alcune cose alcune a cambiarle alcune a sbussarle ti va di raccontarci ad esempio come vivi oggi dove hai mantenuto la tua scelta ma hai cambiato delle cose se ti va di raccontarci cosa magari hai deciso di cambiare come ti sei trasformato in questi anni sì per dire molte delle persone che vengono a trovarmi tramite il woofing se non hanno magari non si sono informate precisamente pensano di venire in una situazione isolata pensano di venire o forse in una baita alla Mauro Corona no? delle remite di montagna e in realtà io e la mia compagna abitiamo in una palazzina anni 60 che ha sei appartamenti noi ne abitiamo uno e che sta in paese quindi tra virgolette non è non è lo stereotipo del del vivo in montagna no? ho lasciato la casetta prima che la casetta diciamo facesse una brutta fine comunque mi ero già trasferito in questa casa per dire la concretezza nella casetta sì era era diciamo un'esperienza alla tourò appunto di vita di vita solitaria rustica estremista eccetera però facevo bruciavo la legna per scaldarmi che adesso probabilmente che abito in una casa in cui ho fatto il cappotto abbiamo fatto un impianto con la termocucina che funziona sempre a legna eccetera eccetera quindi abbiamo usato l'odiata tecnologia eccetera io penso che oggi brucio per scaldare la casa dove abito ora un quinto o forse anche meno della legna che bruciai all'epoca quindi una scelta un compromesso estetico vivere in una casa di mattoni come quella dei tre porcellini no? della storia e non più in una casetta di legno un compromesso estetico esteriore quindi non fare più il se vogliamo il Mauro Corona nella casa di legno ma diminuire la propria impronta ecologica no? questo come in agricoltura passare dal lavorare sostanzialmente a mano all'investire magari i soldi in un attrezzo meccanico che però è tra virgolette un attrezzo di lavorazione del terreno molto all'avanguardia rispetto a quello che si sta capendo di come bisogna mettere le mani nella terra al giorno d'oggi qualche compromesso insomma di sì appunto di di sostanza insomma di valutare qual è qual è l'impronta ecologica delle azioni che facciamo di essere efficienti di essere efficaci e di non pensare che per forza di cose fare le cose a mano sia di per sé migliore oppure fare le cose all'antica sia di per sé migliore utilizzare con con intelligenza la tecnologia sempre più in maniera leggera che abbiamo a disposizione certo certo no ma poi ricitando Toro che hai citato più volte no se se ricordiamo bene ovviamente anche lui dopo quei due anni di vita nei boschi poi rientra gradualmente in altri percorsi no di vita no e quindi anche questo forse perché poi quello che è più importante di quella casetta di quel momento in cui avevi 24 25 26 anni era l'esperienza che hai fatto no il il viaggio che poi oggi ti porta ad essere più maturo e quindi non serve più diciamo per forza spingere l'acceleratore verso quella dimensione estrema perché poi fondamentalmente l'importante è che tu e ognuno di noi sia felice nella sua situazione no perché magari quella sembra più poetica poi magari mi muoio di freddo sto male e metto a disagio la mia salute non ha non ha più senso no dopo un po' no quindi andava il discorso del durare passa anche per questo non essere il compromesso per me è stato non essere più così severo con me stesso cioè se sgarro se faccio se mi piace una cosa che non è approvata da Greta Thunberg se non sono sempre il massimo dell'ambientalista dell'ecologista se eccetera faccio il compromesso perché è più importante durare nella scelta che non fare una scelta talmente estrema che si rivela sostenibile per pochi anni e poi magari torno a una vita normale è sempre questo qui il concetto diciamo secondo me guida uscire il momento della casetta era un momento di identità io non dico che non sia giusto che uno voglia vivere in una baita in montagna a 2000 metri se lo ritiene se lo ritiene opportuno va benissimo per me il vivere in quella casetta era cercare a 24 25 anni a definire i miei confini esteriori estetici di capire dove iniziavo e dove finivo io ora diciamo che sono un po' più maturo riesco a a tenere la mia identità sempre faticosamente anche se sono mescolato tra virgolette perché noi sia nessun il mito dell'autarchia è pericoloso perché intanto essere autarchici significa non avere bisogno di nessuno e non avere bisogno di nessuno non dà belle lezioni di vita oltre a essere un'utopia assurda perché neanche i Neandertal dipendevano comunque da un gruppo sociale quindi anche l'idea dell'off grid di staccarsi dalla rete pazienza in una baita in un rifugio in montagna è certo di avere i pannelli solari ed essere off grid ma non ha un significato un significato secondo me particolarmente denso di insomma non sono uno che cerca di prepararsi alla fine del mondo facendo le scorte in un bunker sotto terra e cercando di salvare solo me ma sono uno che cerca di evitare la fine del mondo facendo delle cose cercando di fare delle scelte sensate certo sono assolutamente d'accordo tra l'altro grazie perché hai hai centrato un punto fondamentale e l'hai spiegato in maniera molto matura molto saggia e se ti va vorremmo chiudere questa intervista come siamo abituati a fare nella nostra radio quindi ti volevo chiedere come ultima domanda se in tutti questi anni di percorso c'è un ricordo oppure una sensazione particolare che porti nel cuore un qualcosa che ti è rimasto impresso e che ricordi come una cosa decisiva importante che non si può dimenticare ma di quanto sono stato bene bene proprio a livello psicofisico della pienezza ecco della pienezza con cui ho vissuto gli anni dell'intensità in cui ho vissuto tutti i giorni perché sono giorni mesi anni che sono che sono volati e l'anno scorso l'anno scorso mi è uscita un'ernia quindi sono stato malissimo per sei mesi terrificante e mi sono reso conto di quanto nei 15 anni precedenti cazzo sono stato bene cioè come come un drago cioè lavoravo sì quando ti senti ti senti forte insomma ti senti felice ganso attivo nel momento è stato sicuramente sì è qualcosa che è stato un regalo grandissimo insomma per questi anni in cui proprio uscivo la mattina di casa l'albeggiare respiri respiri forte sei appena uscito dal letto e ti svegli con quest'aria fresca nel mattino d'inverno è quello che per me è sentirsi sentirsi vivo proprio a un livello mentale ma proprio a un livello anche fisico psicofisico proprio certo beh questo dono l'hai fatto anche a noi perché quando hai deciso poi comunque per ogni qualsivoglia motivo raccontare questa storia sia nei libri sia nelle interviste sia oggi comunque hai restituito tanto anche agli altri perché comunque hai dato un esempio di scelta matura di scelta consapevole e oggi c'è bisogno di ragazzi che siano allineati verso la consapevolezza e che non facciano le scelte a casa perché poi questo giro di giostra va vissuto intensamente esattamente come dicevi tu ho fatto la mia scelta ma l'ho vissuta centimetro per centimetro tutti i giorni sì un messaggio che vorrei dire appunto a chi ha 20 anni anche 18 17 c'è occhio perché si fanno scelte con leggerezza anche scelte a cazzo percorsi universitari si è ancora in un limbo così ma sono momenti determinanti quindi quelle estati fra la terza quarta superiore la quarta e la quinta la quinta e poi non si sa cosa in cui non si ha niente da fare va bene il cazzeggio però lì veramente bisogna che anche chi gli sta attorno gli desse degli input perché dopo magari come ti dico dalle esperienze che ho raccolto poi ci si ritrova dieci anni dopo trent'anni e quando finalmente capisci effettivamente certe cosette che avresti preferito capirle prima e magari le energie sono andate in direzioni differenti quindi sarebbe veramente un enorme aiuto da dare a chi ha appunto vent'anni oggi perché veramente è un momento importante certo assolutamente d'accordo io mi sento di ringraziarti non solo a nome della radio perché questo è scontato ma a livello mio personale ho passato molte ore ascoltandoti anche prima di oggi e ho sempre pensato che dietro dietro a questa questa storia a questa persona ci fosse una persona molto concreta oggi l'hai ridimostrato in maniera anche abbastanza intima quindi io ti ringrazio veramente di cuore per questa testimonianza che passano gli anni e rimane sempre attuale non so se questo è un bene o male ma sicuramente è un dato importante grazie grazie a te grazie a voi spero che ci rivediamo presto e in bocca all'uvo per tutte le iniziative che stai portando avanti grazie ciao alla prossima ciao 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 Radio dare una voce le storie di chi ha scelto di cambiare vita Radio dare una voce